Siamo con Monica Cioccheri qui alla casetta, anzi a Casetta Village perché quello che era la casetta è diventata un vero e proprio villaggio, villaggio vacanze qui al mare di Roma. Siamo a Lido di Castelfusano, facilissimo da raggiungere con la Colombo in un oasi di Paratiso perché praticamente siamo totalmente fuori dal centro abitato. Casetta Village è un vero e proprio villaggio vacanze posso dire perché c'è stata questa trasformazione radicale e infatti noi l'abbiamo tradotto poi in uno slogan che è la vacanza che desideri a due passi da Roma. È un centro molto grande con ampi spazi che offre tantissime cose a cominciare da tutta una parte sportiva molto vasta come dicevo, campi da beach volley, beach tennis, paddle tennis, piscina per adulti, piscina per i bambini e tante altre cose, intrattenimento anche serale e diurno. Quindi un punto di ritrovo dove passare una piacevole giornata al mare, trattenersi per un aperitivo a bordo piscina o anche in spiaggia con i nostri famosi ormai finger food e passare poi la serata, continuare la serata con della musica oppure in occasione di eventi che organizziamo spessissimo. Quindi insomma un punto di ritrovo proprio per una piacevole giornata di relax e di divertimento. Ecco lei mi parlava di eventi e c'è un evento importantissimo che è anche la festa dell'estate. Siamo vicinissima a Ferragosto. Sì, a Ferragosto organizziamo una festa molto bella dove praticamente si verrà a ricreare un vero e proprio Luna Park dove verranno montati tantissimi giochi ai quali possono partecipare sia gli adulti che i bambini. Ovviamente ci sarà una sorpresa di fuochi artificiali e tanti artisti, circensi, tante cose musicali, una cena meravigliosa, buffet per le famiglie con i bambini o anche per chi invece vuole passare una piacevole serata al mare e ballare e divertirsi. E chi sceglie Casetta Village? Che cosa trova? Credo principalmente l'accoglienza, la cortesia di uno staff molto qualificato che ama questo lavoro, principalmente. Tanta qualità e soprattutto degli spazi importanti dove si può godere il mare senza avere il vicino a 5 centimetri, che è una cosa secondo me veramente importante.